C'è stato il momento della delusione finale, del fisco finale dell'arbitro, inizia però il momento dei ricordi, dei ben ricordi di questa champion che ha portato un'altra pagina, una medaglia del gente, un'altra pagina nella storia della pallavolo di Buster Sizio. Ho detto bene, è una pagina di storia, storia sportiva, che non credo abbia la S minuscola, perché chi sa di volley, chi sa di sport può capire quanto sia difficile arrivare a questi livelli, quindi è chiaro che c'è un pizzico di delusione anche perché eravamo partiti piuttosto bene nel primo set e tu sai che quando la partita si mette sui binari giusti la pressione si sposta magari nel campo avversario. Bisogna essere contenti, insomma riprendo un po' il filo del discorso di ieri, di essere arrivati qui, è un percorso lungo che trova le sue ragioni anche in stagioni precedenti, il bilancio complessivo di cinque anni di Coppe ci dice due vittorie, un terzo, un secondo posto nella champion, in questi anni è tanta roba. E anche per la pallavolo italiana, insomma il nome del Nendo Yamamai Buster Sizio significa qualcosa? Busto c'è, c'è un pezzo di pallavolo italiana, oggi ha giocato una giocatrice italiana giovane come Alice De Gradi, di UF, una componente nazionale. Io penso che serva anche al movimento, sapersi rappresentare questi livelli, non piangiamoci addosso, qualche volta noi italiani abbiamo un po' l'abitudine a vedere sempre il peggio nelle nostre cose. Chiaro che il nostro è un movimento che fa i conti con una crisi generale, quindi con le risorse economiche che non sono mai facili da reperire, però ci mettiamo qualità del lavoro, penso che possiamo essere fieri come italiani, come movimento pallavolistico italiano, di aver comunque rappresentato la nostra nazione nel contesto di questa competizione importantissima. Per concludere, se ti conosco bene, questo non è un traguardo ma è un nuovo punto di partenza. Certo, personalmente l'ho sempre pensata così, però deve essere un traguardo della società in sé. Ecco, è probabile che alla fine di questa stagione cambieranno tante cose in questa società. L'importante è mantenere questo spirito, saper sognare, saper lavorare, crederci fino in fondo e uscire anche da una sconfitta a testa alta, avendo giocato bene e riconoscendo i meriti di un avversario, ma non c'è motivo per non essere già proiettati sulla prossima partita. Grazie mille Massimo. Grazie a voi di seguirci sempre con affetto. Grazie a voi.